Mattia, 23 anni, è partito come ogni mattina per andare a lavorare e alle 8 e mezza purtroppo una telefonata drammatica del titolare che mi diceva di correre perché in cantiere era successo qualcosa. Così Monica Michelin, mamma di Mattia Battistetti, racconta ciò che è avvenuto il 29 aprile 2021 quando suo figlio ha perso la vita sul lavoro schiacciato da un carico di 15 quintali e sganciato da una gru, il dramma nel cantiere edile della ditta Bordignon a Montebelluna. Le indagini però a nove mesi di distanza non sono ancora chiuse. Il pubblico ministero ha subito iscritto nel registro degli indagati 10 persone per omicidio colposo. Non abbiamo fretta, lasciamo al pubblico ministero il tempo di cui avrà bisogno, l'importante è che faccia giustizia, una giustizia vera. Monica Michelin, dopo mesi d'attesa, ha deciso di fondare un'associazione per non dimenticare i morti sul lavoro e ha anche deciso di lanciare un appello diretto tra gli altri alla Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ho gridato il mio urlo di dolore a tante persone e sinceramente il Presidente Mattarella mi ha telefonato per portare le sue condoglianze e la sua vicinanza. Io l'ho pregato di aiutarmi a fare giustizia, non solo per Mattia ma per tutte le vittime che sono tre al giorno ci lasciano dal posto di lavoro dove vanno per guadagnarsi un boccone di pane.